Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Walking Dead Il nostro gruppo di sopravvissuti ha lasciato il rifugio Sembra che ci sia un altro gruppo di sopravvissuti che ci sta dando la caccia Il perché non mi è ancora ben chiaro e lo vedremo insieme Questo è 5 giorni dopo che il gruppo è partito, ha lasciato appunto il rifugio Sembra una casa di montagna Allora, io adesso, io ve l'ho detto che io la serie di The Walking Dead l'ho già giocata tutta, 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 tutta Ma l'ho fatto parecchi anni fa Sì, sembra percorribile E non mi ricordo una mazza, non mi ricordo veramente una mazza, mi ricordo solo una cosa Una cosa me la ricordo molto molto bene e probabilmente succederà oggi Vedremo E mi sembra un'ottima idea Sì Mi sembra un'ottima idea Diegli lo Clem, che non sei una ragazzina Quindi viene con noi Ok, non viene C'è un perché Però lo sta... ah no, ok, dicevo che stava evitando il discorso Cibo, essere sicuro Poverina Non è che gli sono rimasti Nessuno vuole far arrabbiare Rebecca Sembra abbastanza sclerata quella Ok, sono in tre, giusto? Sì, però ho bisogno di un'arma Cosa fai? A mani nude, Clem Sì, ma dammi un'arma Che cosa... cosa ho io, scusate Per... ah, ok Ah, ok, un martello, va bene Eh, ci vuole una discreta forza Però vabbè che hanno i cervelli mezzi Già mezzi spappolati Non credo che sia particolarmente difficile Ah, sono solo due, non sono tre Eh, lo sapevo Sì, non è il momento di mettersi a chiacchierare Ok, dai Ok, ah ok, era già... era già... morto Morto Di nuovo Mi piace Luke Si fida di noi, è simpatico, è gentile Cosa faceva Clem per terra? Ah, hanno... passato... C'era una specie di spranga in mezzo al passaggio Oddio, cos'è una bambina quella? Era una bambina Non mi piacciono molto queste asti Però vabbè, se dov'è... cioè, probabilmente tenevano su un treno Quindi... Eh, iniziano ad essere tanti, eh Ecco il martellino Meglio liberarsi prima Oh, madonna Ecco, cos'è che ho detto? Prima tenevano su un treno Sì Ok, allora, prima questo Cerchiamo di farlo cadere, magari No Oh, Clem No Il martello Forza Clem, forza, 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 forza Forza, è uno zombie, è stupido Possiamo fregarla Lanciala di sotto Oh, oh, oh Bacete Prendi il bacete Mamma mia Ancora No, non era decisamente una bambina Luke, dimmi che sei ancora lì, ti prego, sì Cosa hai intenzione di fare? Oh Mamma mia Mi hai preso male Di nulla Ho perso 12 anni di vita per far sta cosa Io ragazzi non dico più niente, perché ogni volta che dico qualcosa succede l'opposto Ma c'è sì Non è sicura che vuoi camminare su quel ponte? Beh, chi sei? Chi ti chiede? Sono Sono Clementine E questo è Luke Clementine e Luke Quindi? Si avvicina Lui è un fucile, noi no No, non siamo stronti No, non siamo stronti Potrebbe essere passata di questa, è viva Si Oh, finalmente una persona carina No, che cavolo fa? Ehi, 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 ehi No, no, no He's with us Don't shoot Ma no Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché, Nick? Perché devi essere così ritardato? Ma sei Cioè, tu spari in faccia Ma spari in faccia alla gente così a caso? Mamma mia Che ritardato Cioè, seriamente il tizio voleva aiutarci Cioè, aveva offerto del cibo Perché non l'ho lasciato morire a Nick? Perché Sì, va bene Sì, va bene, Nick Hey, you could have hit one of us Yeah, but I didn't Look I, I know Pete was close to you, Nick But you can't Don't fucking talk about him You think he was with Carver? I don't know I No, I don't think so But he fell over He fell off the damn bridge? Eh, eh Gli ha sparato al collo Ha intenzione di avere il bambino qui e ora, Rebecca? Can I talk to you alone? Che situazione del manga, veramente Nick, sei un Veramente un deficiente Hey, Clem You got anything to eat? Bex's dying here Alvin, I told you I'm fine Sorry, I'm out Wish we still had those juice boxes Yeah, me too That man said he had food in the station Mind checking it out? Maybe we could spend the night here Sì, va bene A little small for us, though Sure Di nulla Alvin mi piace Mi sta simpatico Ok, cerchiamo del cibo Dovrei parlare, forse, con Nick Se voglio capire perché ha sparato Ho capito Devo mentire Cosa? Anche io ho fame Cosa? L'orologio che avevamo visto Avrei potuto dargli l'orologio Però poi mi avrebbe dato della ladra Ok Allora, vediamo un po' Osserva barattoli vuoti Magari c'è qualcosa di pieno Insomma Ha detto che aveva un sacco di cibo A rifugio Non penso qui Hai cosa chiave Ok, quindi ci serve qualcosa per Per spaccare la serratura, credo V M Bello Sì, sì Bel contellaccio Vediamo se possiamo usare questo Tenta a spaccarlo Sembra, sembra Bello grosso Quindi, esatto Non si dovrebbe spaccare Cibo? Cibo vero? Ehi Alvin, non dovevo controllare io Ehi Alvin, non si dovrebbe avere un sacco di cibo Ehi Alvin, non si dovrebbe avere un sacco di cibo Non è vero Abbiamo mollata Vi ricordate? Carly sta parlando di... No, di Lily Di Lily che ha sparato a Carly E noi Lily l'abbiamo mollata in mezzo alla strada Bastarda E ho fatto bene, avete visto? Ho rubato la macchina Sì, ma va bene Ma lo odiamo comunque a Rebecca Alvin, io ho capito Lo daremo a Rebecca Però decideranno tutti Io non tengo il segreto Cosa? Ecco, un sacco di zombie che hanno sentito lo sparo Vabbè, l'importante è che hanno preso il cibo E abbiamo anche un bel coltello Dai Rebecca Che strano Mi sembra strano che sia chiusa Da dove veniva allora il tizio? Non era sicuramente in quel rifugio Sì, non c'è problema Vi ricordate dove l'abbiamo trovata la prima volta con Lee nella prima serie? Era nella casa sull'albero che poverina cercava rifugio Che l'aveva trovato Visto che comunque erano tutti morti tranne lei che era nella casa sull'albero Baby sitter era Ah, mi piace il probabilmente ti prendo se cadi Adesso si chiama parkour Eh sì Continuo a pensare che sia una cosa stupida Cioè, se rischi la vita Tieniti forte Passettino, passettino Oh Ragazzi siamo in alto qua, eh Mi viene un pochino d'ansia Una macchina Due macchine No, scusa Sono due luci, non due macchine Andavano veloci, quindi pensavo fossero macchine Lam, sei proprio sicura di voler scendere ora che non c'è nessuno che ti può prendere? Vabbè, piano piano Tieniti forte Tieniti stretta Ok, dai, siamo scesi Ok, dai questo me lo ricordavo oh oh ok oh 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 che bello non importa quante volte l'ho visto è sempre emozionato madonna ragazzi la prima volta che l'ho visto stavo male ero tipo no non ci credo Kenny ah che bella casino albero di Natale la musica Kenny e Sarita sono stati con noi per alcune settimane avevano un luogo ovviamente so we have plenty of food and believe it or not we still get some power from that wind turbine out front we tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention but after we found this stuff in storage we couldn't resist making an exception what's funny oh nothing Walter here's one smart sumbitch makes a mean can of beans well why don't you two catch up while I get some dinner started buona la zuppa la musica dello schiaccianoci the hell we will yeah I'm holding on to my rifle thanks and I'm a god musica dello schiaccianoci and I'm a god isn't it great isn't it great Ok, grazie Kenny Mamma mia, Kenny sembra un'altra persona Ok, che bello, un posto dove dormire, tanto cibo Kenny Cosa vuoi di più? Oh, ma che meraviglia Che è? Sto portando questa dottima cosa, eh? Sì Sì Sì, mi ha detto che ho visto Lee walk up next to you You guys were like two peas in a pod Morto Oh, shit, I didn't mean to It's just hard not to think about it, you know He saved me I knew it I knew he would That guy had a fire in him, sure as shit Hell Lee and I had our differences, that's for sure But When my son He took care of him I'll never forget that So Where'd you end up? Era con Krista e Omid I was with Krista and Omid Omid? Well Krista and I were together for a while But these guys caught us She's gone Chissà se è ancora viva Di Krista non mi ricordo assolutamente niente I wish I could have found you sooner Where have you been? Oh hell All over after Savannah How did you get out of there? For some reason I tried to save that fucking shit bird Infatti vi ricordate era totalmente circondato Direi di sì L'avevamo dato tutti per sfacciato Avagato And then I met Sarita Thank God Gosh, it's great to have you back You two catching up? Clem? This is my girl, Sarita Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine Hey, Walt, where's Matthew? You still out there rooting around? Of course he is Well I'll start dinner Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie Can we do anything to help? Can we do anything to help? Can we use a hand outside? We've got a lot of supplies to bring in before that storm hits Sure Clem, why don't you help Walt with dinner? C'è, cena! Che bello essere qui Zuppa di fagioli, immagino Settling in well enough? Yeah, thanks Excellent Want to help me prepare a little dinner? So how do you know Kenny? He and Sarita have been a huge help We're old friends I met him after it happened When he was with Lee? Yeah, he only told us a little Probabilmente era troppo doloroso per lui Connecting with people is so important I don't know what I'd do without Matthew Matthew? Gosh, you remind me of my students I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this It hasn't been easy I can imagine It's hard enough as an adult Beh, forse è più facile in realtà per i ragazzini Perché Sono più adattabili Si adatta molto di più un bambino Di un adulto Mmm Looks great It looks like mush No, it doesn't Mmm, mmm, mmm As an artist There's nothing I like less than a friendly critic Hmm Striking resemblance Le pesche? Ah, pericolini Ah, pericolini Direi ragazzi che il nostro episodio di oggi finisce qui Sembra che finalmente abbiamo trovato un posto carino Dove riposare e goderci le vacanze di Natale Non so se è Natale Credo di sì Visto che comunque Sembra essere pieno inverno E fa molto freddo Quindi Il periodo dovrebbe essere quello Non penso che festeggino Natale In estate Quindi vi ringrazio tantissimo per aver guardato E ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao